Buon salvone, appassionati di football manager, io sono Alessandro, Lucullus Games su YouTube e su quella piattaforma viola dove vado in live tutti i giorni, trovate il link in descrizione. Oggi andremo a simulare la finale di Champions League tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco. Qualche giorno fa abbiamo fatto la simulazione della finale di Coppa UEFA di Europa League tra Inter e Siviglia, il gioco ci ha azzeccato, nel senso che non ha azzeccato il risultato esatto perché ha simulato un 3-1 e poi è finita 3-2, però comunque ha azzeccato la vincente che poi è stato il Siviglia. Vedremo se questa volta il gioco azzecherà appunto la vittoriosa tra PSG e Bayern Monaco, chissà, magari questa volta potrebbe persino riuscire ad azzeccare il risultato finale. Sulla sinistra, come potete notare, non ci sta per me la possibilità di scegliere le formazioni perché io sono un allenatore esterno in questo save, le due squadre dopo una serie di simulazioni sono riuscite effettivamente da sole ad arrivare in finale, i rispettivi allenatori sono quelli reali potete notare Flick, allenatore del Bayern Monaco, mentre l'allenatore della squadra francese effettivamente è il signor Thomas Touckel. Queste due squadre entreranno sicuramente nella storia stasera, non solo perché vinceranno la Coppa dei Campioni ma perché riusciranno a fare anche il treble. Solamente 7 squadre sono riuscite in questa impresa Celtic, PSV, Ajax, Inter, lo stesso Bayern Monaco, Manchester United e Barcellona solo il Barcellona però è riuscito ad arrivarci due volte nel 2009 e nel 2015 il Bayern potrebbe riuscire a bissare questo treble dopo che l'aveva vinto appunto nel 2013 ma il PSG avrebbe una forza in più, una motivazione in più per riuscire a vincere questa competizione perché non l'ha mai vinta il PSG, non ha una grande tradizione europea ha vinto solamente la Coppa delle Coppe nel 1996 quindi sicuramente ha uno stimolo in più in questa serata. Andiamo a vedere chi tra le due squadre vincerà la Coppa dei Campioni vediamo la simulazione secondo Football Manager. Queste sono le due squadre che scenderanno secondo il gioco in campo sul lato di sinistra troviamo la formazione del PSG Bernat, Kimpembe, Thiago Silva, Kerr, Navas in porta Marquinhos, Verratti, Herrera a centro campo, Mbappé, Neymar, Di Maria in attacco mentre per il Bayern Monaco scenderanno in campo Alfonso Davis, Alaba, Boateng, Kimmich e Neuer in porta, Goretzka, Thiago, Alcantara a centro campo sulla tre quarti Perisic, Müller, Gnabry mentre in attacco Lewandowski Calcio d'inizio. La rimessa laterale del Parisa Germain viene sbagliata quindi Perisic può far ripartire solo per un primo momento il Bayern Monaco recupera la palla il PSG con Bappé che combina con Neymar c'è il gol ma attenzione posizione irregolare da parte dell'attaccante del Parisa Germain quindi tutto da rifare si ripartirà con lo 0-0 vediamo che Mbappé ha servito Neymar che era un metro quasi avanti e quindi il gol è stato correttamente annullato ancora però il Parisa Germain che sta dominando sul piano del gioco con Verratti che allarga bene per Di Maria che l'appoggia per Neymar però non c'è lo spazio per Anderattilo quindi proverà comunque Di Maria percussione la difesa del Bayern Monaco riesce a salvarsi ancora il Pari con Kerr in avanti poi Verratti a gestire il pallone palla per Marquinhos che non ha però la possibilità di Anderattilo quindi ancora Verratti lì ad impostare Herrera Marquinhos è un veloce giropalla però non ci sono gli spazi per poter aprire il Bayern almeno da un punto di vista centrale ora ci provano sulle fasce con Herrera che però ritorna al centro Marquinhos, Verratti, ancora Marquinhos il Bayern Monaco si difende benissimo però il pallino del gioco è sempre per i francesi Di Maria va al tiro Noia riesce a salvarsi sarà calcio d'angolo corner per il Parisa Germain quindi con Verratti che dalla lunetta del corner la mette direttamente al centro però Boateng riesce a salvarsi ancora Bayern Monaco con Kimmich poi Goretzka il Bayern forse si è finalmente svegliato al 24esimo Kimmich sull'altra destra prova a sfondare ancora la combinazione con Gnabry che va al tiro ma si salva la squadra francese Thiago Silva parte quindi dalla difesa adesso il PSG con la passaggio per Kimbebe Kimbebe indietro per Navas il PSG ancora non vuole comunque sfondare ha visto che ha la possibilità di attaccare il Bayern Monaco anche se il Bayern Monaco si riesce a difendere molto molto bene quindi dovrà esserci qualche strappo qualche colpo di genio per riuscire a colpire i bavaresi ancora Di Maria sull'out di sinistra palla al centro per Neymar gol incredibile di Neymar al volo palla pazzesca di Di Maria rivediamo ancora l'azione con Herrera che allarga molto bene per Di Maria che va fino in fondo poi a un certo punto vede l'inserimento di Neymar palla di prima tocco a fil di palla Neymar è imparabile per Neuer il Paris Saint Germain va avanti in maniera veramente rocambolesca inaspettata questa vehemenza questa voglia di fare del PSG è incredibilmente anche un Bayern Monaco troppo remissivo finito il primo tempo possiamo andare a controllare anche qualche statistica vediamo che il possesso palla più o meno è alla pari non ci sono state ammunizioni da ambo le parti i tiri sono stati più o meno gli stessi anche se ne ha fatto uno in più il Paris Saint Germain sia tra i tiri totali che su quelli importa cominciamo con il secondo tempo rimessa laterale del Bayern Monaco con Alfonso Davis che questa sera non si è visto sfondare lateralmente come ha fatto insomma col Barcellona e ha umiliato diverse volte i giocatori blaugrana Navas per Thiago Silva Thiago Silva ancora per Navas e un passaggio rischioso infatti il Paris perde palla poi Thiago può allargare per Gnabry sull'auto di destra Gnabry potrebbe poi andare a cross basso per Kimmich che potrebbe mettere la palla per Lewandowski c'è il gol di Lewandowski grandissimo assist di Kimmich e poi Lewandowski si sa da quella posizione è assolutamente letale non bisogna dare la possibilità a Lewandowski di andare a colpire così rivediamo la percussione di Gnabry che non trova lo spazio però intelligentemente la gira poi a Kimmich Kimpembe sovrastato da Lewandowski il polacco porta in parità la partita Paris Saint-Germain con Neymar ha questa possibilità di ritornare in vantaggio su punizione ma la palla è alta sopra la traversa Paris Saint-Germain con Kehr poi Verratti ancora sull'auto di destra prova a sfondare il Paris non trova lo spazio quindi riparte dal retrovie Thiago Silva per Kimpembe Kimpembe prova ad impostare la linea difensiva del Paris Saint-Germain molto alta devo dire molto più di quello del Bayern Monaco almeno in questo frangede Marchignos per Verratti Verratti ancora Marchignos centralmente il Paris Saint-Germain continua a palleggiare ma non riesce mai a trovare lo spiraglio giusto grandissima linea difensiva da parte del Bayern Monaco poi Gnabry addirittura si accendere la palla per Golesk che allarga molto bene per Kimmich da solo salta l'uomo Kimmich mette una palla al centro per Perisic alto anche stavolta sopra la traversa Davis per Alaba Alaba poi indietro per Noiere nel frattempo è uscito Mbappé per il Paris Saint-Germain quindi hanno in meno un giocatore importante sicuramente francesi Goretzka avanti per Gnabry Gnabry sull'auti destra prova a spingere poi la passa ancora Kimmich Kimmich oggi veramente incredibile la prestazione del tedesco Alfonso Davis sull'auti sinistra prova a sfondare per una delle sue prime percussioni palla in avanti Nava si salva su un colpo di testa che in realtà non era molto angolato ancora Kimmich perde palla sull'attacco di Di Maria sull'auti sinistra può sfondare il Paris Saint-Germain Di Maria fin in fondo non trova lo spazio indietro poi per Bernat Bernat dovrà provare a crossare basso per Verratti il tiro di Verratti Murato ancora Bernat il tiro stavolta sembra più un passaggio per Neuer a quando pare questa finale di Coppa dei Campioni non sarà decisa con 90 minuti regolari ma bisognerà andare ai tempi supplementari almeno questo ci sta dicendo Football Manager 9 tiri a 6 per il Bayern Monaco che ha invertito la tendenza nel secondo tempo 4 tiri in porta a 3 sempre per il Bayern Monaco possesso palla perfetto in parità 50 e 50 cominciamo i supplementari corner per il Bayern Monaco siamo al 99esimo Thiago subito una palla nell'area piccola si salva però il Paris Saint-Germain che può addirittura ripartire con Herrera che trasforma la fase da difensiva in offensiva Herrera non viene assolutamente bloccato a fine in fondo mette un cross sul lato opposto dove arriva il Francesi con Bernat e Sarabia sbagliano completamente 2-3 occasioni 2-3 rimpalli il Bayern Monaco si è salvato poteva essere già sotto in questo primo tempo supplementare Neymar può sfondare cost to cost azione di Neymar solista entra in rigore va il tiro Neymar completamente sbagliato non sono stati tempi supplementari memorabili non ci sono state tante occasioni si è visto molto più calcio nei tempi regolamentari probabilmente le squadre sono anche un po' stanche andiamo a vedere chi vincerà la lotteria dei rigori a questo punto Lewandowski primo rigorista del Bayern Monaco parte dagli 11 metri Lewandowski il tiro il gol per Keylor Navas che però aveva intuito quanto meno la direzione Neymar adesso per rispondere a Lewandowski Neymar pronta la rincorsa il tiro il gol di Neymar sceglie il lato opposto Neuer intuisce ma nulla da fare per il gol che arriva per il pareggio del Paris Saint-Germain Alaba per il Bayern Monaco ancora gol finora nessuno ha sbagliato tre rigori su tre segnati un altro difensore si presenta dal dischetto Thiago Silva per il Paris Saint-Germain va al tiro c'è il gol anche attenzione uno sbaglio c'è stato uno sbaglio sembrava graficamente sembrava sembrava gol io a questo punto sapete cosa faccio metto una telecamera diversa effettivamente perché da lì mi ha fregato e deve essere tutto molto più chiaro Thiago Alcantara pronto dal dischetto va al tiro c'è il gol del Bayern Monaco a questo punto il Bayern Monaco sta in vantaggio e il Paris Saint-Germain se sbaglia qui si complica notevolmente il percorso dei rigori Herrera va al tiro il gol di Herrera 3 a 2 per adesso il parziale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain Kimmich ancora dal dischetto cambia lato Kimmich attenzione di solito quando si cambia poi si sbaglia Kimmich stavolta è riuscito a fregare il portiere del Paris Saint-Germain quindi ancora tutti i rigori del Bayern Monaco sono stati segnati perfettamente sarà Paredes adesso a dover segnare per forza per mantenere in corsa ancora il Paris Saint-Germain dal dischetto Paredes Neuer è tranquillo e sereno sa che può portare a casa la vittoria con una parata attenzione non si muove neanche non si muove neanche quindi niente di fatto il Paris Saint-Germain è ancora in corsa qui Goretzka potrebbe chiudere l'incontro dal dischetto il tiro e c'è il gol il Bayern Monaco vince la Champions League ai rigori contro il Paris Saint-Germain per quanto riguarda la simulazione di Football Manager stranamente il Bayern Monaco stavolta attacca più sull'auti destra rispetto all'auti sinistra l'asse Gnabry-Chimic ha funzionato decisamente meglio è stato molto più efficace ma nella realtà potrebbe essere l'esatto opposto perché Alfonso Davies è in forma smagliante un giocatore che sa dribblare l'uomo sa mettere il cross è un giocatore a cui viene data tanta possibilità di spinta Perisic riesce sempre a favorire le sue sovrapposizioni e forse attualmente è il miglior terzino sulla scena mondiale il Paris Saint Germain ha avuto un vantaggio tattico che non ha saputo sfruttare Marchignos Verratti ed Herrera hanno avuto il pallino del centrocampo però sono stati sempre troppo lenti nella manovra non riuscivano mai a sfondare la difesa del Bayern Monaco anche se mantenevano comunque il possesso del pallone il Bayern Monaco è riuscito a colpirli poi quando si è disteso verticalmente ed è arrivato poi l'assist per Lewandowski che sarà sicuramente letale anche questa sera e sarà probabilmente dominante determinante in questa finale di Champions League il video sulla simulazione tra Paris Saint Germain e Bayern Monaco in questa finale di Champions League termina qui mi raccomando vi aspetto dalle 17 su quella piattaforma viola dove andremo in scena online ancora con Football Manager dove ci stiamo giocando un campionato importantissimo con lo Slovan Liberec partiamo sicuramente da sfavoriti in una delle challenge piuttosto mai realizzate su Football Manager in cui bisogna vincere ogni anno almeno una competizione ogni anno però bisogna anche cambiare squadra cambiare paese e quindi è davvero difficile riuscire a non andare in una squadra vincere senza poter fare il mercato estivo mi raccomando vi aspetto dal 17 su quella piattaforma viola buon sabore a tutti grazie a tutti